Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! - 100年前勢集めてギャングやろうかな? – Ehi-yan. - 100年前勢って…それは… みんなそうじゃん. – Ehi-yan. - このロスサントス勢… – Ah, soいうこと? – Ah… - Eh,でもそれならちょっと興味ある. – Ehi-yan. - Ehi-yan. – Anbi, mazie de犯罪全くしたことないから… – Ehi-yan. - Ehi-yan. – Oれもないんだよ. – Ehi-yan. - Ehi-yan. – Ehi-yan. – Yann. – Ehi-yan. - Soit,強すぎぃ! – Ehi-yan. – Ehi-yan. Ehi-yan. – Ehi-yan. Sì, io sono un po' di rinforzare un po' di rinforzare un po' di rinforzare. Sì, sì, sì. Cosa? Ma che c'è? Ma che c'è? Cosa? 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 Bambina Cosa? 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 che cosa è la sua, la sua volta di like E' ma C'è Oì, chi è? 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 Sì! Behomma 100万 1000万 Ch proactive che non si piacciono tutto questo Ha kindava ... ... Cioè Djang oi black money i 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